Ed ora parliamo della scuola, oltre 700.000 i ragazzi di seconda e terza media che questa mattina sono tornati in classe, effetto del passaggio delle loro regioni da Rosse ad Arancioni. Ma per le superiori si dovrà aspettare gennaio. Elisabetta Novell. Riguarda soprattutto i ragazzi di seconda e terza media il declassamento cromatico delle regioni, non gli studenti delle superiori ancora in didattica a distanza, probabilmente fino al 7 gennaio. E i più piccoli, dalle elementari alla prima media, che sono rimasti sempre in presenza. Per le scuole superiori la ministra Zolina vorrebbe una riduzione graduale delle lezioni da remoto già a dicembre, ma solo nelle zone di minor contagio e soprattutto non di domenica, come si era ipotizzato. In Lombardia e Calabria, che hanno cambiato colore passando da rosso ad arancione, gli studenti di seconda e terza media sono tornati in classe questa mattina. Non in Piemonte, dove per effetto di un'ordinanza del governatore Cirio, le lezioni proseguono a distanza dalla seconda media in poi. In Campania, l'unità di crisi regionale ha prorogato la didattica a distanza fino al 7 dicembre. Protestano gli studenti a Napoli. Contrari alle lezioni da remoto, chiedono la riapertura della scuola in presenza. In Campania, l'unità di crisi regionale ha prorogato la riapertura della scuola in presenza.